L'Ute di Acquaglia delle Fonti ha organizzato questa esposizione di presepi inerenti ovviamente al periodo natalizio. Quest'anno ci siamo dedicati a realizzare questa mostra perché era un progetto che voleva, doveva essere affrontato già nel precedente anno, però abbiamo deciso quest'anno. Noi come università abbiamo un corso di arte presepiale tenuto da un docente che viene da Bitretto, Natale Gatti, e siccome il nostro obiettivo che si propone l'Ute è quello di avere un progetto di prossimità con la gente, quindi non è bello lavorare per conto nostro nell'ambito dell'università e magari rimanere nel nostro guscio. Abbiamo bisogno di far conoscere quello che effettivamente fa l'Università della Terza Età di Acquaviva, quindi cerchiamo una vicinanza con la gente. Non a caso l'anno scorso abbiamo fatto pure delle esibizioni di danza storica in piazza, poi l'altro anno accademico abbiamo fatto la cerimonia di chiusura in piazza proprio per stare a contatto con la gente di Acquaviva. Tornando a questa mostra è un progetto ambizioso e rientra nell'ambito del laboratorio di creatività che abbiamo, abbiamo diversi corsi, tra cui questo di arte presepiale. E' iniziato così per scherzo questo laboratorio l'anno scorso e avevamo pochi corsisti, quest'anno se ne registrano più di una quindicina e il maestro Natale Gatti è riuscito ad incentivare questa volontà nei corsisti di dedicarsi appieno a questa attività laboratoriale. Sono tutti ottimi i lavori, se lo aspettava? Beh guardi, se dovessimo considerare che l'anno accademico è iniziato appena ai primi di novembre e nel giro di un mese e mezzo i corsisti sono riusciti ad elaborare questi bei presepi, c'è uno stretto giro di tempo, quindi vuol dire c'è proprio passione e volontà di cimentarsi in questa arte. Ora ci si ferma per il Natale, poi si riprende con altri corsi, altre lezioni, quindi ci sono già in programma diversi appuntamenti? Beh noi in effetti adesso ci fermiamo per le festività natalizie, poi si riprende l'11 gennaio e l'Università della Terza Età non si ferma mai. Infatti quest'anno abbiamo registrato 461 soci e tra l'altro quello che ci ha stupito è proprio l'iscrizione di più di 100 nuovi soci, quindi questo significa che l'Ute di Acquaviva si sta inserendo in un ambito di attenzione nella città di Acquaviva, perché il fatto di essersi presentati 100 nuovi volti all'Università è abbastanza significativo. Poi come diceva lei altri progetti, progetti ce ne sono tanti, infatti dal 12 gennaio ci sarà un corso concentrato su 12 incontri presso la sala con la femmina del comune e quindi sono incontri dedicati alla guerra, all'epoca della grande guerra, perché si celebreranno i cent'anni quest'anno della prima guerra mondiale e quindi ci saranno questi, poi ci sono tante altre attività perché grazie a questo consiglio direttivo che abbiamo è una macchina sempre in movimento e quindi noi mettiamo così le nostre capacità professionali perché ognuno di noi ha avuto la sua bella attività lavorativa e quindi mette in atto tutte le conoscenze professionali. L'artefice principale di questo bel lavoro che abbiamo qui davanti ai nostri occhi e qui con noi è stato un lavoro duro oppure è stato semplice anche mostrare ai corsisti come procedere nei lavori? Beh sicuramente non sono proprio io l'artefice principale ma bensì bisogna dare atto all'Università della terza età che ha voluto veramente porre delle basi per quest'arte perché per me l'arte presepiale è effettivamente un'arte a tutti gli effetti anzi forse è l'unica arte che copre a 360 gradi tutte le tecniche e comunque i corsisti veramente sono animati da non è un modo di dire ma proprio da sono animati da una passione tutti insieme sembriamo proprio bambini alle prime armi perché poi alla fine il presepio non è altro che la rappresentazione della natività, della famiglia e quindi veramente loro spronano anche me che io ce l'ho proprio una passione sfrenata per il presepio. I tempi che ci sono voluti per realizzare questi presepio ovviamente parlo dei corsisti perché per lì probabilmente è stato più semplice. Beh diciamo che le opere dei corsisti abbiamo dovuto un po' accelerare e hanno lavorato con la tecnica la prima tecnica una delle più elementari adesso non le sto a spiegare la tecnica però è una delle più elementari però comunque nell'arco di poco di un mesetto siamo riusciti a preparare delle piccole opere che magari poi vi mostrerò quindi loro si sono impegnati e nel giro di un mesetto siamo riusciti, le mie opere sono opere di anni di lavoro insomma. E la difficoltà maggiore dove è stata riscontrata da parte dei corsisti? Beh sinceramente questa è una domanda che dovremmo fare a loro però io di grosse difficoltà non ne ho viste perché loro hanno dato anima e corpo veramente nell'assemblare i lavori di loro competenti. Ci sono state domande particolari durante la lavorazione? Beh senz'altro tante domande. Le più comuni? Beh le più comuni loro chiedono i materiali, chiedono il tipo di colorazione, chiedono gli attrezzi. E niente queste sono, poi ci sono delle serie che sono di maestri ad alto livello siciliani, napoletani, anche pugliesi di Conversano e loro chiedono anche informazioni sui personaggi, sui pastori. Sono tutti diversi l'uno dall'altro ma qual è che si avvicina più al presepe classico, quello degli anni passati? Allora secondo il mio punto di vista ce ne sono due o tre che per me rappresentano veramente la natività. Questo è uno, questo in pratica è un presepe particolare, questo è, chiamiamo un presepe in due, sarebbe il diorama che è un presepe chiuso e ce l'abbiamo dietro, mentre abbiamo la scenografia della natività, il vero presepe aperto. Quindi secondo me questo è quello che si avvicina di più perché abbiamo la montagna sullo sfondo, il paesaggio palestinese e poi la natività in primo piano. Questo è il classico, il più moderno invece quale potrebbe essere? Beh diciamo che il più moderno possiamo dire qualcuno, qualche natività sotto l'ulivo, sotto gli alberi. Poi abbiamo naturalmente degli scorci dei nostri paesi, questo è uno scorcio di gioia del Colle dove sono nato io, quindi questo è uno scorcio di gioia. Lì invece rappresentiamo i sassi di Matera dove ho lavorato per svariati anni, poi c'è il Beato Giacomo, il chiostro del Beato di Bitetto dove io vivo. Quindi c'è il classico, c'è il moderno ma c'è una via di mezzo anche? Sì, la via di mezzo la possiamo avere su quel presepe che vedete in fondo, quello è un paesaggio di Tufara, è un paesaggio di un paese in provincia di Campobassa a cui sono particolarmente legato, ho delle amicizie vere, quindi è quello che è una via di mezzo.